Il primo concetto che si associa ad una sneaker solitamente è il concetto di adattabilità. Una sneaker si può indossare senza stagione in qualsiasi momento dell'anno. Questo sicuramente è uno degli elementi che ha aiutato la popolarità di questa calzatura. Le nostre creazioni nascono prima di tutto da una riflessione. Il mercato è saturo di prodotti overdrawing che esasperano linee, colori, proporzioni. Noi andiamo in una corrente estremamente opposta. Cerchiamo di enfatizzare, di mettere alla luce la purezza dei materiali, la purezza stessa e la purezza delle forme. La creazione ultimata è un prodotto senza tempo. La nostra realtà è 100% made in Italy perché un manufatto così complesso come possiamo vedere è possibile realizzarlo solo nei nostri laboratori.